Noi ci aspettavamo sulle 10.000 persone, ce ne sono 15.000 per dire che è proprio buono. Noi ci aspettavamo. Noi ci aspettavamo sulle 10.000 persone, ce ne sono 15.000 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 persone, ce A presto La poca! Un applauso! 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 La poca! 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 Quando il pezzo batte, volevo dire che chi ti sa andare, ok? Ok, è possibile? No, è mica possibile. Sto diamo? No, è possibile? 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 No, è possibile?